Partedì 20 Partedì 20 marzo 2018, ben trovati, appuntamento con Mattino 6, la nostra consueta rassegna stampa per la lettura dei giornali che troverete oggi in edicola. Iniziamo come di consueto, come sempre con le prime pagine dei quotidiani abruzzesi, partiamo dal centro, l'edizione di Pescara, il titolo di apertura lo vedete inquadrato riguarda il CUP dell'ospedale, il CUP senza luce, il servizio trasloca, sistema bloccato per un cavo tranciato, un'altra giornata difficile per gli utenti e poi a centro pagina l'omicidio neri, accertamenti anche sulla macchina bruciata, irissa caccia d'impronte anche sulle vetture che erano state sequestrate nei giorni scorsi. Vediamo gli altri titoli che riguardano Pescara e provincia, Corso Vittorio Emanuele, vedete il titolo di spalla, niente avvisi per i bus deviati, strada chiusa nel suo ultimo tratto per lavori dell'ACA. E poi andiamo più al centro, Naya di Pronto, un piano di investimenti, ieri conferenza stampa del presidente della Progetto Sport che gestisce l'impianto, poi più avanti vedremo anche un servizio, e poi a Montesilvano, Riviera Senso Unico, progetto del Comune. Torniamo invece nella parte alta della pagina, mare in anteprima, la mappa dei divieti sulla costa abruzzese, vedete questo titolo in grigio, già decisa dalla regione questa mappa e ci si avvia verso la stagione calda, ci potrebbero essere come leggiamo dal centro dei divieti. E poi la politica, la politica in primo piano perché è arrivato l'ok della Corte d'Appello ai 14 deputati abruzzesi. Vediamo la prima pagina del centro edizione di L'Aquila, Avezzano, Sulmona, la cronaca in apertura, rapina con lascia in sala giochi, L'Aquila il colpo a Battistelli, a Sulmona assalto con ostaggio al Carrefour. Vedete la foto di centro pagina, il nuovo vescovo Fusco, vescovo di Sulmona, benedice le penne nere, vedete la sua foto nella sezione Alpini di Sulmona. E poi le cronache, le cronache all'Aquila, l'ex capo dei vigili rivuole il comando. E poi ad Avezzano premiati i 33 pionieri del commercio e invece a Sulmona climatizzatori dell'ospedale troppo rumorosi. Altre notizie, congresso della Will Temps, il lavoro crescono gli atipici, in Abruzzo 40 mila occupati. E poi la scommessa abruzzese e così nove borghi si uniscono per fermare lo spopolamento. Lasciamo la pagina di L'Aquila-Vezzano, Sulmona del centro e andiamo a vedere insieme quella di Teramo. Anche in questo caso il titolo di apertura riguarda la cronaca. Arrestato stalker con la pistola Giulianova, trovato dai carabinieri sotto la casa della donna che perseguitava. E poi vedete la foto di centro pagina, riabbraccia la mamma dopo 29 anni, grazie alle Iene, un giovane di Isola del Gran Sasso che ha rincontrato la madre dopo quasi 30 anni. Vediamo gli altri titoli, truffa ex tercas, gli imputati parlano in aula. E poi l'inchiesta, case vacanza fasulle, raggirati due teramani. E poi la politica a Teramo, Teramo verso il voto, illegale Pelillo, nuovo nome per quanto riguarda il centro-destra. E noi andiamo a vedere la prima pagina del centro di Chieti. Lanciano Vasto, muore a 46 anni dopo l'antibiotico. Lanciano fatale per un papalo, shock anafilattico. In seguito all'iniezione del farmaco. E poi protesta per salvare 250 animali a Chieti, il comune non paga il canile e a rischio chiusura. Ci spostiamo a Vasto, furti nelle auto e nei ristoranti, due arresti. E poi a Chieti, vedete il titolo più in basso, ex conceria, i veleni senza responsabili. E poi ancora a Chieti, la cronaca giudiziaria, abusi sui piccoli atleti. Oggi il giudice decide. Andiamo a vedere anche la prima pagina dell'inserto Abruzzo del messaggero. Il titolo di apertura riguarda l'omicidio di Alessandro Neri. Ale spunta la malavita locale. Questo è il titolo a tutta pagina. E poi Alba Adriatica si accoltella per caso mentre lava i piatti. E poi a centro pagina c'è questa foto, lo vedete, del sottosegretario all'ambiente Mario Mazzocca. Fuoco amico sui rifiuti. C'è stato lo stop al piano rifiuti della Regione Abruzzo da parte del governo. E Mazzocca parla di fuoco amico sui rifiuti. Lo aveva fatto, tra l'altro, in anteprima ieri ai nostri microfoni, nell'intervista che vi avevamo proposto nel corso del TG6 di ieri. e che vi riproporremo più avanti. Vediamo le altre notizie della prima pagina dell'inserto Abruzzo del messaggero. Sesso per la casa, ex assessore pagherà il comune. E poi, vedete, più in basso, Pescara. Si parla di rebus traffico per i cantieri. E poi l'articolo che riguarda il voto, il dopovoto nella nostra Regione, e soprattutto gli sviluppi in Regione, i dissidenti esclusi dal vertice in Regione, Gero Solimo e Di Matteo, le spine nel fianco di Lolli, erede di Luciano D'Alfonso. Vediamo anche in alto altri titoli che riguardano sempre l'inserto Abruzzo del messaggero. Stalking, agguato ad una donna, armato fino ai denti. E poi un altro titolo che invece arriva dall'Aquila, bandito in pugno un'ascia, sale un locale pieno di clienti. Infine, lo sport, il calcio, la Serie B ed il Pescara. Pescara e Tegola, nazionali, Balzania e Capone, nelle nazionali non potranno scendere in campo, non potranno essere disponibili per la gara di domenica alle 15, allo Stadio Adriatico Giovanni Cornacchia, dove il Pescara affronterà la capolista del campionato di Serie B Lempoli di Andreazzoli. Siamo alla prima pagina del Quotidiano La Città, un pastrocchio di liste e candidati. Teramo, la politica cittadina nella settimana decisiva per comporre gli schieramenti alle comunali. Vedete poi in alto altri titoli. Roseto, i socialisti fanno ciao a Sottanelli e aprono al PD. Politica, Gatti e Ginobili ancora a pranzo insieme. Poi Teramo, tettoia dell'orrore, Melarangelo lancia una crociata per rimuoverla e poi stalking a Giulianova armato fino ai denti sotto casa della vittima. Poi in ospedale con un profondo taglio alla pancia, incidente o violenza, questo l'interrogativo per questa vicenda. E poi il processo commissariare Tercas è stato inverosimile. E poi una notizia di sport in basso che riguarda il Teramo Basket. Coach Bianchi esonerato, al suo posto il tandem di Francesco Gramenzi. Lasciamo le prime pagine dei quotidiani abruzzesi. Andiamo a vedere l'edicola nazionale, partendo come di consueto dal Corriere della Sera. L'apertura è per la politica. La politica vedete in primo piano. Camere 5 Stelle vicini all'intesa con il centrodestra. Salvini sente Berlusconi. Di Maio, noi il perno. E poi femminicidi, spara la moglie davanti alla scuola. Donne uccise, una, ogni 60 ore. Andiamo a vedere la prima pagina di Repubblica. Salvini tenta il blitz sulle camere. Senato alla Lega, Movimento 5 Stelle a Montecitorio. Forza Italia è rivolta. Mattarella, non esiste un partito del colle. E poi vedete, Afrin, Zero Calcare e la tragedia kurda. Dimenticati gli eroi che fermarono l'Isis. Questo è il titolo che riguarda la tragedia della città di Afrin. Siamo alla stampa. Il quotidiano torinese. Il furto di dati affossa Facebook. L'Unione Europea accusa usati per fini politici. Vedete questo titolo di apertura. con il meno 6,77% in borsa. E poi, così il Santone libera le schiave nigeriane. Il capo religioso africano cancella i ricatti e le superstizioni a cui sono sottoposte le donne emigrate. Vedete questo titolo che riguarda questa inchiesta, questo reportage di Domenico Quirico della stampa. Andiamo a vedere il sole 24 ore. Eurozona, la riforma non aspetta. Intervista con Bruno Lemaire, ministro dell'economia francese, che rilancia l'obiettivo di una roadmap entro giugno. E poi, il fatto quotidiano, Movimento 5 Stelle e PD sempre meno distanti. Di Maio sui ministri pronti a discutere. E poi vedete le presidenze, le presidenze di Camera Senato. Lega Idea Senato Forza Italia con Bernini Fraccaro in poll per la Camera dei Deputati. Il manifesto, Salvini e Di Maio alla roulette, questo è il titolo del quotidiano. Il manifesto, tutti contro tutti, per le presidenze delle Camere. Il messaggero, la pagina nazionale, Camere partita doppia di Salvini, telefonata con Berlusconi, non rompo domani vertice, ma avanza l'accordo con il Movimento 5 Stelle. La carta buongiorno al Senato e Fraccaro a Montecitori. Il referendum sulle alleanze spacca il PD. E poi vedete, Tonfo al Wall Street per il caso Cambridge, analitica, meno 5,2%. Facebook, il crollo dopo lo scandalo, ecco la falla nel sistema di controllo. E poi la sanità, sanità, liste d'attesa ancora più lunghe. Lazio e Maglia Nera. Il Tempo, altro quotidiano romano, il titolo in alto. Vedete, così ci fregano sull'Atari. La Raggi sbandiera alla riduzione della tassa sui rifiuti a Roma. Ma c'è il trucco, scrive il Tempo. E poi, a proposito, sul Tempo leggiamo anche un titolo che riguarda la scomparsa, la morte, l'omicidio di Alessandro Neri. Perché sul Tempo leggiamo, svolta nel giallo di Pescara, l'alibi del cugino non regge, si diceva fosse andato negli USA il giorno prima del delitto, ma è partito l'indomani. Questo è il titolo del Tempo sull'omicidio di Alessandro Neri. E siamo a Libero, il fisco se ne infischia degli evasori e picchia la gente che lavora sodo. Questo è il titolo principale di Libero. E poi vedete, i cani e i gatti si azuffano, anche se devono sloggiare. Grasso e Boldrini e Ferricorti per le poltrone. Grasso e Boldrini, che sono i presidenti uscenti rispettivamente di Senato e Camera. Siamo al quotidiano La Verità, buffata di nomine alla faccia del voto, dal CNEL a CONI Servizi. E poi, chi è Viganò, il monsignore che ha gettato il Vaticano nel ridicolo, scrive il quotidiano La Verità. E poi, avvenire, migranti torturati, rapporto dell'ONU sulla Libia, inferno, nei campi. E poi vedete altri due titoli, bufera su Facebook per i dati rubati, e Putin si gode il trionfo a Mosca. E poi un altro titolo che riguarda il Papa, Papa Bergoglio, che dice ai giovani, abbiate coraggio verso il sinodo disoccupazione, dice il Pontefice, peccato sociale. Andiamo a vedere anche il secolo XIX, il quotidiano di Genova, che apre con la politica, passa la linea Salvini, Berlusconi apre al Movimento 5 Stelle. E poi vediamo a centropagina, finale mezzo secolo in Liguria. Fil di cielo, un progetto per celebrare la capitale italiana dell'arrampicata sportiva. Finale, sta per finale Ligure. Andiamo a vedere il mattino, il mattino di Napoli, uccide la moglie davanti alla scuola, sciocca a Terzigno, le spara la testa e fugge su uno scooter. I due si stavano separando. E poi utenti spiati, bufera su Facebook, lo scandalo dei dati rubati a 50 milioni di profili, perfini politici. Crolla il titolo. E poi un titolo invece di sport, che riguarda la corsa a scudetto nel massimo campionato di calcio. Sarri sfida la Juve, pronti a conquistare il Palazzo del Potere. E questo era l'ultimo, il mattino, l'ultimo quotidiano nazionale che abbiamo preso in esame in questa edicola, proprio per edicola dei quotidiani italiani che troverete oggi in edicola. Noi torniamo invece a parlare di cronaca dalle nostre province, dalla nostra regione. Si riparte dal centro, a pagina 2. Si parla di mare, di estate. E sono già pronti, leggiamo da questo titolo, i divieti del 2018, prelievi sulla costa, i bagni saranno vietati solo in 10 punti. L'Abruzzo supera quasi bene l'esame della prossima estate. Dunque, situazione non del tutto negativa. Fossacesi a sud, Monza e Silvano al centro e Tortoreto a nord sono le tre località che godono di ottima salute perché vantano solo analisi con risultati eccellenti indicati con il blu. La regione, leggiamo sempre da questo articolo del centro, incontrerà i sindaci dei 19 comuni interessati per spiegare i risultati delle analisi prima di approvare la delibera che prevede di segnalare tutte le zone interdette. E dunque, buone notizie per il mare, tutto sommato buone notizie per il mare della nostra regione. E le aree interne, dunque ci spostiamo dalla costa alle zone interne montane, da Santo Stefano di Sessanio a Pizzoferrato, nove borghi contro lo spopolamento. Questo è un altro argomento importante che riguarda la nostra regione. Nascono le coppe di comunità. Nella rete ci sono anche centri come Tollo, Anversa degli Abruzzi e Pescassero. Il progetto di Conf Cooperative prevede la riapertura di empori e botteghe ed il trasporto scolastico. E poi si parla dell'ora della terra del WWF. Ci saranno a tal proposito due iniziative a Pescara e Chieti, curate proprio dal WWF Abruzzo. Siamo ancora la cronaca della nostra regione, la politica in questo caso, perché è arrivato l'ok dalla Corte d'Appello anche per i 14 neodeputati della nostra regione. Sono stati ufficializzati tutti gli eletti. Possiamo andare a vedere insieme, a ricordare insieme chi sono i deputati che rappresenteranno l'Abruzzo alla Camera dei Deputati. Sono Antonio Zennaro, Daniele Del Grosso, Andrea Colletti, Carmela Grippa, Gianluca Vacca, Daniela Torto, Valentina Corneli, Fabio Berardini per il Movimento 5 Stelle, Antonio Martino, Gianfranco Rotondi per Forza Italia, Giuseppe Bellachioma, Luigi Deramo per la Lega, Stefania Pezzopane, Camillo D'Alessandro per il PD e poi ancora per il Movimento 5 Stelle nell'ultimo riquadro in basso, Primo Di Nicola, Gianluca Castaldi, Gabriella Di Girolamo, Alberto Bagnai della Lega, Nazario Pagano di Forza Italia, Gaetano Quagliariello di Noi con l'Italia e infine Luciano D'Alfonso del Partito Democratico, Presidente della Regione Abruzzo. Vediamo altri titoli, cresce il lavoro atipico in Abruzzo, 40.000 occupati, sul mona congresso regionale Will Temp per parlare proprio di lavoro ed occupazione nella nostra Regione. E noi siamo invece, come vi dicevo, ne parlavamo prima alla questione che riguarda il piano rifiuti, perché è arrivato lo stop dal Consiglio dei Ministri e dal Governo per il piano rifiuti della Regione Abruzzo, ma zocca contro il Ministro, contro il Movimento 5 Stelle e contro i forzisti, accusa a ruota libera Galletti per la bocciatura del piano rifiuti ed il rischio inceneritore in Abruzzo. Ieri in anteprima avevamo ascoltato il sottosegretario all'ambiente della Giunta regionale, Mario Mazzocca. Possiamo andare a vedere dunque il primo servizio con l'intervista a Mazzocca. Movimento 5 Stelle all'attacco della Giunta regionale dopo la bocciatura del piano rifiuti impugnato dal Governo Gentiloni in uno degli ultimi atti dell'esecutivo a guida del PD. L'avevamo detto tuorono i grillini con Sara Marcozzi, consigliere regionale che già in passato aveva criticato il provvedimento varato lo scorso dicembre. La delibera di impugnazione di Palazzo Chigi riapre il discorso legato all'incenerimento dei rifiuti perché l'impianto era già stato previsto in Abruzzo. La Regione, secondo quanto scrive il Governo, non ha fornito adeguati elementi in ordine alle azioni di riduzione della produzione che potrebbe ragionevolmente considerarsi sovrastimata rispetto ad eventuali obiettivi di riduzione della produzione dei rifiuti non adeguatamente considerati, valutando in questo senso difficile dare credito alle previsioni così ambiziose della Regione Abruzzo in tema di riduzione della produzione dei rifiuti ai fini di un eventuale aggiornamento del fabbisogno di incenerimento. Critiche all'esecutivo regionale e al sottosegretario con delega ai rifiuti Mario Mazzocca piovono anche da Forza Italia che con Mauro Febo parla di una debacle totale. Il sottosegretario si difende e risponde così. Cosa accadrà? Accadrà intanto che noi non molleremo di un millimetro almeno fin quanto io avrò ancora la titolarità delle delega all'ambiente e all'ecologia. Certamente siamo abituati alle esternazioni della Marcozzi e non ci facciamo più caso. Stridono invece fortemente le affermazioni dell'ex assessore Mauro Febo quando ci dice che sostanzialmente l'Abruzzo in questi anni abbia fallito su tutto il piano delle tematiche ambientali. Io a lui vorrei ricordare perché ci vuole una bella faccia tosta nell'affermare ciò come sul piano delle petrolizzazioni in Adriatico ovvero sul tema di Umbria Mare lui quando era assessore ma anche prima non ha fatto nulla e se c'è un risultato è ascrivibile esclusivamente all'attività di questa amministrazione regionale per non dimenticare poi il tema della centrale snambi di complessione a Sulmona. Il 27 marzo del 2011 quando c'è stato il degredo di compatibilità ambientale cioè che ha dato il via libera al progetto Ragione Abruzzo da lui rappresentato era assente e non ha dato parere alcuno addirittura vorrei ricordare il tema del power crop dove quando c'è stato l'accordo di programma presso il Ministero il 9 settembre del 2009 lui era presente ma ha dato un non parere fino ad arrivare al piano del gestito dei rifiuti la cui scadenza era al 31 dicembre 2013 per realizzarlo nonostante tutto abbiamo precorsi tempi abbiamo recuperato il tempo da lui e da lì i suoi sodali perso per cercare di evidenziare le ragioni di un Abruzzo sostenibile cosa a cui noi teniamo massimamente questa è la risposta alle critiche delle opposizioni del sottosegretario Mazzocca a tal proposito questa mattina ci sarà una conferenza stampa proprio di Mazzocca che ieri come avete visto aveva anticipato questi temi ai nostri microfoni proprio per parlare ancora di più nel dettaglio di questo stop del governo al piano rifiuti della regione Abruzzo noi cambiamo argomento parliamo dei giovani imprenditori della nostra regione di Adolfo De Cecco il rampollo della dinastia dei grandi pastai di Fara San Martino che esordisce nel settore del vino partendo da Ofena nei nostri vitigni dice cerco l'eleganza e andiamo avanti per arrivare alla cronaca di Pescara alle cronache dalle province partiamo dal capoluogo adriatico dal caos al asle blackout al cup per 4 ore gli sportelli traslocano dopo il taglio di un cavo le postazioni spostate dentro l'ospedale utenti in fila il direttore Ceccagnoli dice nel weekend è stato velocizzato il nuovo software che ha creato lunghe code ma ieri c'è stato un imprevisto in basso si parla dell'eliporto il Movimento 5 Stelle dice non funziona da un anno il consigliere comunale del Movimento 5 Stelle Massimiliano Di Pillo contesta l'inserimento della struttura tra quelle strategiche per la gestione delle emergenze e noi siamo ancora alla cronaca di Pescara Corso Vittorio Emanuele bus deviati ma non ci sono gli avvisi partiti i lavori alla condotta dell'acqua disagi per la chiusura della strada al traffico rifondazione mancano le indicazioni alle fermate dei mezzi soppressi e intanto rumori notturni al centro lo spazio protesta dei residenti di via del circuito non si dorme il comune intervenga e in via del santuario limite di velocità 30 km orari questo un altro dei provvedimenti deciso dall'amministrazione comunale di Pescara andiamo a pagina 16 bufera sul manager di Attiva l'assessore dice resta al suo posto l'opposizione chiede in consiglio la testa di Papa accusato di aver gestito male la vicenda dei precari ma la Marcheggiani fa quadrato intorno a lui ha lavorato bene e fatto crescere la raccolta differenziata e intanto la politica vedete questo titolo di spalla il centrodestra vota contro la mozione antifascista in comune a Pescara e poi l'omicidio Neri l'auto bruciata subito dopo l'appello della madre su Facebook Iris oggi a caccia di tracce di kill tra le ramiere della Opel Meriva distrutta poi vedremo più avanti il servizio intanto i carabinieri di Roma da ieri sono al lavoro sulle auto della Maletto stamattina torneranno per ispezionare la macchina sottratta alla rottamazione la madre del 28enne pubblicò sui social la sua richiesta di aiuto per ritrovare il figlio alle 22 27 di martedì 6 marzo un'ora e 25 minuti prima dell'errogo appiccato alla vettura e siamo alla questione di Serraiocco e l'Enaia di investirò 500 mila euro il presidente della società che gestisce l'impianto assicura nuovi interventi in cambio chiede la regione il prolungamento della convenzione di tre anni ieri si è tenuta la conferenza stampa proprio all'Enaia di Vincenzo Serraiocco presidente della società che gestisce appunto l'impianto di Viale Riviera Nord possiamo andare a vedere il servizio qualche problema negli ultimi mesi c'è stato alle piscine l'Enaia di oggi lei dottor Serraiocco vuole puntualizzare alcune cose vuole anche parlare di questo rapporto con la regione Abruzzo che è proprietaria di questa struttura anche su quello che è accaduto negli ultimi tempi cerco di presentare il meglio possibile la verità in modo che senza creare polemiche ma soltanto nella condizione di creare una maggiore collaborazione tra noi e i nostri utenti la risorsa di questa struttura rappresentata sempre da coloro che ci vengono perché la concorrenza c'è aumenta sempre ed è giusto che noi rispondiamo con le verità e con i servizi migliori ed è giusto che io chieda oggi anche alla regione uno sforzo o un impegno o un impegno nei confronti di questa struttura non nei confronti di questa società che lo gestisce andare avanti soltanto con lettere protocolli e richieste per poi non giungere a nulla fa sì che ci troviamo in una situazione di stallo che preferisco che in questo periodo non ci sia c'era stato qualche problema nelle scorse settimane anche si diceva per la temperatura dell'acqua qualche genitore si è lamentato tutto risolto? si tutto risolto noi quotidianamente con i nostri monotentori prendiamo le temperature che sono costantemente sopra alla temperatura che è stabilita dalla federazione italiana nuoto e dalle altre federazioni però da padre di famiglia visto che oggi è anche la festa del papà mi preme dire e sottolineare sempre che nonostante la federazione mi dà una temperatura molto bassa molto bassa mi dà una temperatura di 26 gradi o di 24 gradi io normalmente faccio notare i ragazzi i bambini ma non solo i bambini mi hanno una temperatura più alta per dare una maggiore sicurezza l'ultima cosa ha parlato di progetti futuri cosa state pensando per rilanciare ulteriormente questa grande struttura? abbiamo già pensato abbiamo fatto una proposta di un investimento di mezzo milione di euro più il pagamento per il pagamento del canone nei confronti della regione già da subito se è possibile avere una proroga tecnica per far sì che l'impianto sia messo nelle condizioni migliori per chi potrà venire successivamente a voler gestire sicuramente noi non parteciperemo non ci tireremo indietro a partecipare al nuovo bando che sarà data la regione ma abbiamo chiesto che tutto venga rimesso a zero in un punto zero in cui l'impianto sia a norma è un impianto che sia in condizioni che possa accogliere tutti nel miglior modo possibile che possa essere un'eccellenza speriamo che le istituzioni perché chiedo molto perché è necessario che le istituzioni siano vicine non che giochino a fare qualcosa di diverso siamo ancora a Pescara attenzione in carcere nella cassa circondariale San Donato agenti aggrediti da un detenuto per un armadietto non riparato poi in basso la cronaca sorpreso a rubare 100 kg di rame un quarantenne bloccato arrestato dai carabinieri lungo la rete ferroviaria di via Po andiamo ancora avanti è morto a 64 anni Giannini il campione Giampiero Giannini il campione con il sorriso appassionato di auto correva negli anni 80 stroccato da un malore improvviso folla ieri ai funerali alla Madonna dei Sette Dolori sul sagrato una Porsche e poi in 150 la corsa Fidas di solidarietà terzo raduno di cicloturismo per sensibilizzare alla donazione di sangue proseguiamo gli uffici del comune traslocano per sei mesi siamo a Francavilla al mare dove sono cominciati i lavori di miglioramento strutturale del municipio San Giovanni Teatino ecco il mercato del vivere sano da lunedì 26 marzo in piazza municipio partirà Agri San Gio dedicato ai produttori agricoli locali ancora San Giovanni Teatino il segretario del PD Orsini dice basta polemiche pensiamo alla città e poi c'è Pagatti no a disposizioni anticipate di trattamento lo dice e lo chiede il popolo della famiglia siamo a Montesilvano i progetti per la viabilità se ne parla tanto in questi giorni senso unico sulla riviera il comune studia un piano la proposta parte dall'amministrazione che sta valutando come attuarla Padovano della Sib dice i balneatori sono tutti favorevoli attendiamo una risposta in basso bandiera verde progetto per le scuole concorso di pittura poesia e fotografia per i bambini De Vincentis fa visita alla primaria di Blasio di Montesilvano siamo ancora a Montesilvano Avis provinciale in un anno 6.320 donazioni di sangue assemblea annuale ordinaria a Montesilvano i soci sono saliti a 4.174 in basso andiamo a città Sant'Angelo due giorni di gare con l'Italcaccia successo della seconda edizione delle manifestazioni cinofile ci spostiamo alla pagina della provincia di Pescara dell'area vestina dell'Alta Val Pescara partiamo da Popoli comunità estesa Popoli chiama raccolto otto paesi il movimento ripensiamo il territorio rilancia il progetto di una fusione tra i centri dell'Alta Val Pescara con quelli della bassa valle Peligna e poi penne celebrati i 60 anni dell'associazione Carabinieri andiamo a centro pagina Manoppello campagna anticolesterolo nelle farmacie ancora Manoppello Ecad protesta per gli stipendi non pagati in basso a Scafa ex Sama lo Stato cede i terreni al comune oggi previsto un incontro tra il sindaco e i rappresentanti del De Manio allora possiamo fermarci per qualche attimo poi torneremo in studio per la seconda parte di Mattino 6 continueremo a leggere le pagine del centro poi passeremo al messaggero al quotidiano la città e chiuderemo con la pagina relativa allo sport di nuovo in studio seconda parte di Mattino 6 siamo la pagina di Chieti del centro animali senza assistenza il comune non paga canile abbandonato questa la denuncia la quota mensile non versata da quasi un anno ora il debito di 80 mila euro i gestori dicono siamo in ginocchio chiusura vicina la proposta di Alessandro Marzoli consigliere comunale del PD più multe agli incivili per trovare nuovi fondi e poi andiamo in basso solidarietà anche da Torino caporale debiti immorali gatti restano invece senza sterilizzazione la ASL diserta la commissione sulle colonie feline di Pasquale protesta siamo ancora alla pagina in questo caso della provincia di Chieti tragedia nel giorno della festa del papà prende l'antibiotico e muore a 46 anni fatale lo sciocco anafilattico dopo un'iniezione del farmaco l'uomo lascia due figli donate le corne 3 kg di droga l'indagato resta in carcere vasto cocaina e ascice sequestrati nella dispensa e nel sottotetto con 2000 euro in contanti ancora vasto 6 furti in 20 giorni coppia arrestata siamo ancora alla pagina della provincia di Chieti in questo caso ad Ortona Ponte Chiuso da 3 anni due frazioni abbandonate le contrade Feudo e Arielle dimenticate la viabilità quasi alla paralisi ma qui passano gli scuolabus e i residenti sono anziani che dobbiamo fare si chiedono proprio i residenti di queste due contrade frazioni di Ortona Fossacesia un'altra stazione senza toilette dopo San Vito stessa situazione nello scalo più a sud il sindaco tante anche le barriere architettoniche andiamo a vedere la pagina di Teramo del centro il processo ex Tercas ci sembrava impossibile non poter ridare i soldi presunta truffa con la vendita delle azioni in aula parlano alcuni dei 28 imputati e poi la giornata mondiale di giovedì eventi CAI e ASL per tutelare l'acqua del Gran Sasso vedete questo articolo che parla delle iniziative che si terranno nei prossimi giorni Pietrino parte il processo di beatificazione il 17enne di Ornano appartenente al movimento diocesano morì tragicamente nel 1984 siamo a Giulianova tragedia sfiorata a Giulianova stalker armato sotto casa di una donna commerciante di 70 anni arrestato da anni la perseguitava con lettere minatorie e cartucce lasciate nell'auto riappiaccia la mamma dopo 29 anni siamo a Isola del Gran Sasso Sandy di Varano 31enne di Isola la ritrovata grazie al programma tv Le Iene in basso case vacanza fasulle in Sicilia due teramani truffati online e poi un lutto addio al noto commerciante Forlini pochi giorni fa era morto il socio di Ubaldo siamo alla pagina della provincia di Teramo in questo caso siamo a Silvi cade a pezzi il ponte pedonale sul torrente cerrano il legno in marcio in alcuni punti i parapetti cicolano e molte tavole della pavimentazione sono staccate vedete anche le foto e poi Pineto Pineto la minoranza dice incompleti i lavori della pista ciclabile ci spostiamo più in basso lungo mare di Silvi migrante dorme all'aperto il comune intervenga siamo a Roseto degli Abruzzi porto firme per rivedere la pista ciclabile a senso unico e poi videosorveglianza il comune sempre a Roseto degli Abruzzi cerca fondi il sindaco punta ad intercettare quelli previsti dal decreto Miniti per controllare Pineta e via Taolero in basso passeggiata sulla spiaggia del Borsacchio sabato appuntamento nella riserva siamo all'Aquila assalto con ascia e coltello alla sala giochi il colpo nella notte due banditi rapinano l'agenzia di scommesse Battistelli minacciando l'unico addetto bottino di 10.000 euro lavori di restauro lo terzole al vaglio la derago del progetto e poi invece la gestione dei rifiuti in consiglio giovedì a Villa Gioia sotto esame il piano finanziario per il servizio proposto dall'ASM a coltella un connazionale arrestato siamo ad Avezzano in questo caso un clandestino di 33 anni accusato di lesioni inferto al giovane un colpo alla gamba ancora l'Aquila il comune deve riassumermi l'ex capo dei vigili urbani va dal giudice la citazione di grippo devo essere riammesso in servizio fino al 31 dicembre del prossimo anno chiesti la nullità dei termini posti al suo contratto ed il riconoscimento dei danni subiti ancora l'Aquila auto speciale per Valeriano donazione imminente e poi a centropagina borse di studio a Pisa per due Aquilani e invece alla scuola l'istituto Da Vinci si è parlato di costituzione in basso Gran Sasso nuovi intoppi per le strutture nuova seggiovia delle fontari ancora intoppi come leggiamo in questo articolo siamo la pagina di Sulmona ci spostiamo in Valle Peligna il colpo al megastore rapina al Carrefour con un ostaggio in due hanno tenuto sotto tiro un senegalese per farsi consegnare il denaro dalla cassiera il bottino di appena 300 euro centropagina denunciati i titolari di due case di riposo il NAS avrebbe rilevato l'esercizio abusivo della professione la vivenda noi leader per i pasti a scuola e la senatrice di Girolamo del Movimento 5 Stelle chiede l'accesso agli atti della gara e la tutela dei dipendenti COSELP andiamo ancora avanti ma arriviamo alle pagine dello sport del Pescara in particolare allora possiamo passare e ripartire dal messaggero la vertenza sul degrado piano rifiuti Mazzocca su di noi fuoco amico ne abbiamo parlato prima vi abbiamo proposto l'intervista proprio di Mazzocca vi ricordo questa mattina alle 11 ci sarà proprio una conferenza stampa del sottosegretario all'ambiente della giunta regionale scusate siamo a Pescara la cronaca all'omicidio di Alessandro Neri droga e vendette stretta sugli amici continuano le indagini per far luce sull'omicidio del 29enne possiamo fare il punto andare a vedere il servizio realizzato da Alfredo Primante i RIS sono tornati a Pescara per analizzare le due autovetture in uso tra gli altri al cugino di Alessandro Neri Gaetano Lamaletto Junior che al momento risulta irreperibile assieme al padre e zio del 28enne trovato senza vita giovedì 8 marzo all'interno di Fosso Vallelunga la periferia sud di Pescara Alessandro Neri infatti è stato freddato con due colpi di pistola uno al fianco l'altro alla testa e poi abbandonato in una zona poco frequentata ad un chilometro dal cimitero di San Silvestro i carabinieri avevano sequestrato le due auto la scorsa settimana parcheggiandole all'interno della caserma di Via Lago di Borgiano proprio in attesa del ritorno degli uomini della scientifica che avevano già passato al setaccio la 500 di Alessandro i due SUV una Mercedes GL ed un Audi Q7 sono stati prelevati dalla tenuta vinicola della famiglia Lamaletto ad Orsonia il primo e dalla villa dei nonni di Alessandro a Giuliano Tatino il secondo si cercano indizi che possano fare luce su un delitto che comunque resta avvolto nel mistero gli inquirenti nella settimana appena trascorsa si sono concentrati nella ricostruzione della vita familiare e delle amicizie di Alessandro scavando nei rapporti interni alla famiglia materna e Lamaletto e nei dissidi che sembrerebbero esserci stati proprio con il cugino Gaetano Junior che sarebbe partito per l'estero poco prima del delitto interrogati più volte i genitori di Alessandro e i fratelli che però vivono all'estero raccolte anche le testimonianze degli amici di Alessandro molto legato anche a componenti dei Pescara Rangers il tifo organizzato Biancazzurro intanto nei giorni scorsi come scrive il quotidiano il centro questa mattina i carabinieri hanno recuperato dallo sfascio una Opel Meriva bruciata ai colli appena demolita anche questa autovettura passa sotto la lente di ingrandimento della scientifica per capire se ci siano eventuali collegamenti con l'omicidio di Alessandro e per appurare se sia l'autovettura che segue la 500 rossa ripresa nelle immagini di videosorveglianza del centro città gli investigatori e la procura di Pescara per ora continuano a vagliare tutte le ipotesi anche se la pista privilegiata sembrerebbe quella che porta verso Gaetano Junior come detto di lui non si hanno notizie e nemmeno del padre Camillo fratello della madre di Alessandro che gestisce l'azienda di famiglia Caracas un'assenza e un silenzio che stridono con il clamore mediatico che ha avuto questa vicenda non solo in Italia ma anche in Venezuela che sia questa la pista giusta per dare un volto e un nome all'assassino di Alessandro siamo ancora a Pescara il traffico il caos per i bus deviati proteste alle fermate nessun avviso per i viaggiatori nel giorno dell'inizio dei lavori su Corso Vittorio Emanuele intanto pronto il piano di recupero cambiando argomento per i 18 licenziati da Attiva e 9 saranno richiamati ad aprile per i servizi estivi altri entro l'anno Forza Italia chiede fuori l'amministratore naia di impianti bollette e manovre per la gestione ieri la presentazione dei programmi dell'amministratore di progetto sport Vincenzo Serraiocco vi abbiamo proposto poco fa l'intervista e poi Alzheimer e gravidanza quando la musica cura esperimento al conservatorio Luisa D'Annunzio di Pescara frana dimenticata la rabbia di Civitella Casanova vedete questo titolo di pagina 39 case sventrate 40 persone ancora senza un tetto a tre anni dalla calamità nessuna certezza sui finanziamenti blackout al cup in tilt il nuovo cervellone code di saggi a Pescara e poi auto su via Mazzini siamo a Montesilvano però delibera bocciata dalla commissione in basso carabinieri festa penne per i 60 anni dell'associazione nazionale carabinieri e poi Emilio e gli altri messa per i senza tetto morti proseguiamo ci spostiamo all'Aquila operaio ferito dalla seggiovia centro turistico in silenzio e poi scarti di cantiere nelle fogne guerra agli sversamenti selvaggi all'Aquila e poi ancora pratiche veloci potenziale lavori da 150 milioni effetto Bronx all'Aquila armati di ascia e coltello due banditi assaltano la sala giochi di Battistelli in basso la sentenza doppio lavoro deve restituire alla ASL 430 mila euro ci spostiamo la pagina di Avezzano sul Mona ad Avezzano dunque nella Marsica soccorre donna incinta che lo rapina brutta avventura l'altra sera nella zona centrale un eccesso di generosità mal ripagato per un 60enne avezzanese ancora Avezzano mezza città per l'ultimo saluto all'operaio della Burgo e poi la cronaca ancora in una rissa tenta di sgozzare un connazionale è accaduto sempre ad Avezzano ci spostiamo invece nell'area Peligna per i malati di diabete un'odissea senza fine associazione torna a chiedere che la consegna del materiale sia affidata direttamente alle farmacie e poi rapina a mano armata al Carrefour di Sulmona e poi in basso Avezzano Bianchini di Forza Italia ecco dice la guerra delle poltrone siamo a Chieti sesso per una casa ad Agostino condannato a pagare il comune e poi Marrucino D'Andrea spiega l'inno di Mameli l'iniziativa organizzata dalla prefettura per il 157esimo anniversario dell'unità d'Italia e poi polizia al megalo shopping gratis ladra in trappola De Meis uno sportello culturale o un centro per i giovani la regione ha affidato alla provincia il progetto per realizzare le ultime opere alla biblioteca De Meis di Chieti bottega della Caritas per 4.000 poveri vestiti e oggetti nuovi saranno distribuiti nella struttura di assistenza solidale della diocesi di Lanciano e Ortona Monsignor Cipollone ringrazia comuni e cittadini generosi a Tessa Oniwell prove di riconversione in basso vasto presi gli autori dei furti con spaccata Mariana e Cocaina in dispensa arrestato siamo a Teramo Rolli l'azienda delocalizza 300 famiglie con il fiato sospeso pagina di Teramo ma in questo caso a Roseto linee di confezionamento degli alimenti potrebbero essere trasferite ad Alanno allarme dei sindacati scelta sulla pelle di dipendenti e 500 stagionali ex Tercas gli imputati eravamo tutti yes men e poi a centropagina centrale elettrica della Cona in mercato pizzi fuga i timori in basso a Corropoli coltellata allo stomaco 28enne in ospedale siamo la pagina di Giulianova Santoleri i ricorsi presentati sono due delitto rapposelli chiesti al riesame dagli avvocati la libertà per il figlio Simone ed il ricovero in clinica per il padre Giuseppe ancora Giulianova Stolker pensionato con l'arsenale sotto casa di una 47enne arrestato e ancora Giulianova il cittadino governante se la prende con tutti i politici ad Alba Adriatica ripulisce proprio la cittadina al Benze ripulisce il lungomare Marconi e 70.000 metri quadri di parchi aree verdi Tortoreto Palio del Barone Alvia che festa per i 18 anni scusate per i 18 anni della manifestazione andiamo ancora avanti siamo anche in questo caso arrivati alle pagine dello sport ma dobbiamo andare a vedere insieme le pagine interne del quotidiano La Città ripartiamo anche in questo caso dalla cronaca regionale Galletti il peggior ministro della storia e sottosegretario Mazzocca attacca a testa bassa dopo la decisione di impugnare il piano regionale sui rifiuti Chieti bocciato dai profi il Tar lo riammette e lui si diploma e poi l'omicidio neri di Pescara e RIS tornano per altri accertamenti processo Terca su un commissariamento inverosimile gli imputati si difendono in aula spiegando la solidità della banca e la bontà delle operazioni finite a processo e poi Città e Ateneo sovrapposizione per le elezioni l'Università di Teramo vota il 5 giugno il borsino dei candidati siamo a Teramo per le elezioni amministrative tra liste candidati perona e un pastrocchio scrive il quotidiano la città vedete poi in basso il centro-sinistra oggi D'Alberto ufficializza la sua candidatura civica Gatti e Ginobili a pranzo insieme ieri a Giulianova l'incontro fugace per una chiacchierata sul capoluogo ovvero su Teramo e poi il centro-destra in basso Di Stefano raccoglie l'appello lanciato dai civici di Dalmazio in questo caso per Dalmati sta per Di Dammazio l'ex assessore concorda infatti con l'altro ex assessore no ad un modello Teramo al ribasso dunque grandi manovre anche nel centro-destra andiamo ancora avanti Tettoia degli Orrori in Largo San Matteo Alberto Melarangelo lancia la crociata per la rimozione della copertura inserita nel restyling del corso e poi provocazione d'artista sulla copertura l'opera sotto già c'è la storia sopra sorge una struttura inurbana progetti strategici i fondi non sono a rischio il commissario di Teramo Luigi Pizzi replica al coordinamento dei comitati sul mercato coperto cabina Elele e contratto di quartiere Cona acqua porte aperte sui controlli del Sian giovedì la tavola rotonda dedicata al bacino del traforo andiamo ancora avanti pagina della provincia Globo festeggia i suoi primi 40 anni la storica azienda nata nel 1978 a Giulianova oggi conta 78 punti vendita in tutta Italia più di 1500 dipendenti in basso siamo ad isola del Gran Sasso un fiume di Melma invade le bancarelle al santuario di San Gabriele siamo in Val Vibrata incidente tra auto e scuterone sul lungomare Centauro finisce in ospedale poi si taglia l'addome con un coltellaccio brutto incidente domestico domenica sera per una 28enne di Corropoli e poi in basso ancora Corropoli Cristina Davena ospite d'onore alla festa del sabato santo infine Alba al vuoto luogo simbolo e simbolico per promuovere la città Gabriele Viviani presenta i progetti per i lavori pubblici in vista delle elezioni mannaia da 700 mila euro sui conti comunali siamo a Giulianova il consigliere Antelli lancia l'allarme sul mancato pagamento della Tefa alla provincia di Teramo e poi stalking Giulianova armato fino ai denti sotto casa della vittima da due anni perseguitava e minacciava una giuliese nella sua auto trovata una pistola carica ed un coltello ancora Giulianova l'ufficio Dogana in questo caso però siamo a Mociano Sant'Angelo si salva dagli accorpamenti in basso Franco Arboretti boccia tutti e salva solamente il suo gruppo politico il cittadino governante Bacchetta centrodestra e centrosinistra ignorando del tutto il Movimento 5 Stelle Roseto i socialisti aprono al Partito Democratico Proti si distacca dai sottanelliani siamo un gruppo di centrosinistra ancora Roseto dalla giunta via Libere lavori di riqualificazione di via Taulero in basso mercante chiede garanzie a Lolli sul destino dei dipendenti della Rolli invece a Pineto gli alberi troppo vicini alla ferrovia verranno abbattuti lavori chiesti dalla prefettura per motivi di sicurezza pagina della cultura così le parole diventano fedeli alla vita nel romanzo di Lucia Vaccarella il vissuto privato si trasforma in spazio comune torniamo al centro per aprire la pagina dello sport anzi perdona al messaggero Pescara con Empoli Mission Impossible ma il doppio ex Claudio Bonomi ci crede ed è ottimista con le sue due vecchie squadre a fine campionato sono convinto che festeggeremo promozione e salvezza Bonomi ex Pescara ed Empoli convinto che Pescara possa festeggiare la salvezza e la formazione toscana la promozione e intanto per Epifani c'è la Tegola Nazionali Valzania e Capone non ci saranno domenica per la gara con i toscani ma anche la formazione toscana deve fare i conti con alcune assenze rientrerà il bomber Caputo ma mancheranno Zajic e Benazer che saranno impegnati con le nazionali che dovrebbero essere rimpiazzati da Nikovic e Brighi in basso il calcio a cinque le final eight Acqua e Sapone e Pescara calcia del titolo possibile il derby delle formazioni abruzzesi sabato nella semifinale di Coppa Italia siamo alla seconda pagina dello sport del messaggero Teramo col sud Tirol Palladini può cambiare dopo il pari con la Binoleffe il tecnico pensa al 3-4-1-2 con Tulli trequartista Varas indica la strada tutta la squadra deve essere più cattiva sotto porta parliamo di serie D parliamo e partiamo dalla Vastese Vastese un punto roseo ma serve più impegno parla il presidente Bolami il pareggio non l'abbiamo digerito ora guardiamo avanti ancora in silenzio stampa la squadra e poi il San Nicolò in affanno lotta per evitare i play out Francavilla per i play off siamo all'ultima spiaggia in basso Lavezano che fa sul serio adesso la testa va agli spareggi l'altra pagina di sport del messaggero Sharks vittoria Doc targata Carlino e Ojaid i rosetani hanno piazzato il colpo nella tredicesima trasferta andando a vincere a Iesi adesso tutti i riflettori sullo scontro fratricida tra Bergamo ed Orzinuovi e poi il volley si eco salva ma svogliata si pensa già alle ferie poi il rugby l'Aquila al quarto K.O. ma ormai si pensa al prossimo campionato in basso ancora il calcio di serie D Pineto dopo il K.O. addio ai sogni di gloria l'Aquila i tifosi incontrano il sindaco siamo alle pagine dello sport del centro il pescara targato Brugman il centrocampista del pescara è il migliore in serie B nessuno come lui sette reti senza rigori per il 26enne giocatore uruguaiano e Gautieri ex allenatore scusate ex giocatore attuale allenatore ma ex calciatore di Empoli e pescara vota Epifani buona impressione il 3-5-2 funziona ad Avellino ho visto lo spirito giusto e intanto il giudice commissaria il Foggia e nomina un amministratore per quanto riguarda la società pugliese dopo l'inchiesta della DDA per riciclaggio e ieri sera si è giocato un posticipo l'ultima gara per quanto riguarda la giornata di campionato con la vittoria del Carpi con il più classico dei risultati 2-0 sulla Provercelli doppietta dell'ex Biancazzurro Federico Melchiorri Carpi che sale a quota 44 in classifica la Provercelli resta al penultimo posto con 29 punti siamo alla pagina della Serie C Teramo il gol perduto domani contro il Sud Tirol serve una sterzata ricordiamo il turno infrasettimanale con la formazione di Palladini di scena al Druso di Bolzano e poi l'eccellenza Giulianova ad un passo dal paradiso Bartolini già programma la Serie D un ritorno importante dei giallorossi nel campionato nazionale ancora Serie D Paris presidente dell'Avezzano punta in alto e al derby vogliamo la Serie C l'Avezzano domenica sarà di scena all'Aquila ed il patron bianco verde carica in caso di finale playoff pronti a chiedere il ripescaggio in Lega Pro andiamo a vedere anche l'altra pagina che riguarda in questo caso il basket del Roseto che vede la salvezza contento dice siamo carichi gli Sharks riprendono fiducia dopo la pesante vittoria di Esi il play ci crede in vista della sfida in casa contro Mantua e dice daremo il massimo Roseto ride Teramo piange Teramo terza sconfitta a Casalinga che ha determinato l'esonero del coach Piero Bianchi squadra affidata ai due vice Gramenzi e Di Francesco vedete il titolo di spalla e poi in basso ciclismo allievi il challenge d'Abruzzo si riparte da Miglianico palla a volo Altino punta la promozione Pescara Trerischia K.O. in dolore invece per la SIECO siamo infine alle pagine dello sport del quotidiano La Città Teramo non c'è tempo per i rimpianti dopo il pareggio con l'Albino Leffe domani il Diavolo torna in campo con il Sud Tirolo per il turno infrasettimanale è probabile che Turli positivo in suo impiego domenica si sposti sulla tre quarti con due punte in basso San Nicolò pari a Pesaro la Vis ha esonerato il tecnico Riolfo finisce senza reti la sfida del Benelli i marchigiani hanno esonerato lo vediamo da questo titolo l'allenatore Riolfo e poi il basket Roseto ora la salvezza non è più un'utopia primi punti per gli squali è lasciato l'ultimo posto ad Orzinuovi l'impresa salvezza non è impossibile e poi il basket di serie B Etomilu Giulianova all'ultimo respiro vince il derby con Campli e poi l'eccellenza per parlare del Real Giulianova sempre più real e ora davvero ad un passo dal ritorno in serie D battuta l'acqua e sapone per 3 a 0 i giallorossi hanno 11 punti di vantaggio sul Chieti basket ancora Teramo Bianchi è finita coach esonerato abbiamo visto anche dal centro squadra affidata al duo di Francesco Gramenzi fatale la sconfitta in questo caso contro Civitanova e poi vediamo altri titoli ne lo vediamo nell'ultima pagina di sport del quotidiano La Città parata di campioni per la nuova start-up appena Sant'Andrea la presentazione degli integratori sportivi realizzati con i prodotti del territorio Teramano chiudiamo per quanto riguarda lo sport con le prime pagine dei tre quotidiani nazionali iniziamo dalla gazzetta dello sport Vanda Maurito il mio tesoro parla la moglie e agente di Icardi in vista di un probabile rinnovo del contratto con l'Inter per il giocatore per l'attaccante che nell'ultima gara con la Sendoria ha segnato quattro reti e poi il Milan 2018 anno del diavolo ritmo champions per il Milan che in Europa è uscito dall'Europa ma che in campionato è ad un passo dal piazzamento Champions League e poi volatona scudetto Juve l'arma in più e la regia di Pjanic e di Bala si rilassa scoprendo Madrid e poi il Napoli l'orgoglio Sarri punti e bel gioco a noi del Napoli piace così siamo al Corriere dello Sport Sarri firma nelle prossime ore incontro con il Napoli per l'allungamento del contratto la mia Italia senza paura in alto parla il CT azzurro di Biagio infine tutto sport Bianconeri a caccia di Terzini Juve Darmian si chiude e Toro alle radici del flop ora c'è anche Barreca è un caso come sempre tutto sport analizza in maniera particolare le vicende delle due formazioni torinesi noi siamo così giunti al termine dell'appuntamento di oggi con Mattino 6 che tornerà domani puntuale alle 8 io ringrazio Silvia Gentile in regia ringrazio voi per averci seguito e vi do appuntamento alle 14 per la prima edizione del nostro telegiornale grazie e buon proseguimento di giornata a tutti a tutti grazie